Musica Benvenuti su Casiacimo di Videogiochi Oggi per voi è la Faggine Joker Guys E siamo qui con un nuovo video Questo è un video serio purtroppo Di video serie nel mio canale ce ne sono pochi Addirittura nessuno Volevo parlarvi della mia assenza di questo 4 mesi Allora ho smesso di fare video perchè si sono accavallati troppi impegni E quindi ho dovuto dare spazio a cose più importanti Come lo studio o al mio benessere Alla mia salute o anche al divertimento E quindi ho tralasciato andare un po' di youtube Purtroppo la mia vita sta cambiando Le mie giornate si fanno sempre più ricche di impegni Quindi purtroppo meno spazio per fare dei video E quando ho quello spazio non ho abbastanza tempo per editarli Per fare un montaggio abbastanza carino Quindi diciamo il mio canale non è che è un grand che Però andrebbe a perdere ancora di più di qualità Tutto questo mi sta partendo a prendere una drastica decisione Che io con tutto il cuore non vorrei prendere Sto sul youtube dal 2014 Cazzeggiamo sui videogiochi L'ho aperto con altri due miei amici Rik e Zunami Che però andando avanti nel percorso Mi sono ritrovato da solo a gestire il canale Mi devono dare una mano Alla fine chi registrava, chi li modificava, chi li ricaricava era io Quindi prendere un canale sulle mie spalle Con gli impegni che avevo è un po' difficile Lo so Ci da portare avanti per questi due anni Ma ora ci sto riuscendo meno Non voglio rubarvi più altro tempo Ringrazio i 320 iscritti di questo canale Ringrazio chi mi ha accompagnato in questa carriera su youtube Se così si può definire Ma oggi purtroppo Cazzeggiamo sui videogiochi Chiude Addio Ringrazio chi mi ha accompagnato in questa carriera sulle mie spalle